Sindaco, dal 1992 questo stadio era chiuso in totale abbandono, invece adesso con la sua amministrazione è ritornato alla luce. Che cosa ci può dire al riguardo? Sì, ovviamente non è stata soltanto questa amministrazione che si è insediata poco più di due anni fa a lavorare sulla ripresa delle strutture di questo impianto sportivo. Diciamo che appunto ci sono stati impiegati circa 25 anni da quando si verificò una frana e quindi un dissesto idrogeologico all'impianto, poi mano a mano appunto, prima sistemando il dissesto idrogeologico, poi agendo sulle strutture siamo riusciti oggi a festeggiare e inaugurare l'impianto sportivo. Quanto è importante per una comunità restituire appunto un impianto sportivo, magari anche per i tanti ragazzi che talvolta si ritrovavano a dover giocare lontano dal proprio paese? Questo è stato il crucio più grande perché Grottoriela è ferbita l'iniziativa calcistica sportiva, ma calcistica in modo particolare, quindi c'è una tradizione che noi abbiamo da oltre mezzo secolo. E purtroppo negli ultimi anni la terza categoria, anche la seconda categoria, si è dovuta svolgere su impianti sportivi diversi dal nostro, perché appunto il nostro è inagibile. Ma appunto da oggi, che è l'inizio del campionato in casa della nostra polisportiva Ribertas Grottorella, da oggi si incomincia una nuova vita sportiva a Grottorella. Vassi pensare che l'ultima volta che si è disputata una partita ufficiale su questo terreno di gioco praticamente io ancora non ero nato. Quindi è una responsabilità e una soddisfazione essere delegato allo sport in questo momento storico e aprire il campo sportivo perché è stato oggetto negli anni di battaglie, soprattutto da parte delle giovani generazioni. Io ne ho saltate un paio, addirittura le precedenti alla mia non hanno potuto giocare su questo campo. Oggi abbiamo voluto inaugurarlo in occasione della prima gara ufficiale della squadra locale, la Ribertas Grottorella. Quindi è veramente una soddisfazione che ripaga i sacrifici di tempo fatti appunto in questo periodo, in questi due anni di amministrazione. Non siamo stati soltanto noi, ho sentito prima quello che diceva il sindaco, a rendere possibile questo giorno perché purtroppo il campo era fermo per un problema, per uno smottamento franoso. Quindi c'è stato bisogno di interventi abbastanza importanti. Noi abbiamo solo ultimato quella che era l'opera iniziata forse addirittura 25-30 anni fa con finanziamenti arrivati ad hoc per ripristinare la frana. Però con l'impegno in questi due anni, a parte il Covid, perché è stato uno dei primi impegni che abbiamo preso, l'abbiamo preso in campagna elettorale. Poi con una delle prime delibere di giunta abbiamo approvato il progetto per adeguare lo stadio alle normative vigenti. Oggi lo inauguriamo dopo un periodo di pandemia in cui le priorità amministrative sono dovute spostarsi su argomenti più importanti.